Ed ora ci occupiamo di folklore e musica, vediamo. A Napoli in piazza Mercato la decima edizione della Notte della Tammorra, il festival di musica e cultura popolare ideato e diretto dal compositore napoletano Carlo Faiello. La manifestazione quest'anno è stata dedicata alla recente scomparsa del maestro Giovanni Coffarelli, uno dei padri della tradizione campana, impegnato per oltre 40 anni a diffondere e conservare vivi i valori delle culture vesuviane più antiche, tra gli ospiti anche l'inasastri. Dopo il grande successo di pubblico e di critica riscosso nelle passate edizioni, quest'anno il festival è stato promosso dall'assessorato turismo e grandi eventi del Comune di Napoli. L'obiettivo della Notte della Tammorra è quello di promuovere un festival dedicato alla tutela del patrimonio immateriale, attraverso il confronto tra portatori di tradizione e costruttori di memoria, favorendo così la salvaguardia del patrimonio culturale della nostra terra. Tra le novità di quest'anno Michele Mangano e Danza Nova di Monte Sant'Angelo, che hanno rappresentato la Puglia come ospiti d'onore alla Notte della Tammorra. Mangano ha portato a Napoli la tradizione musicale pugliese, dalla tarantella garganica a quella salentina.